ciao vasco e ciao ciao domenico come va tutto bene? siamo fatto questa festa siamo andati a cena ieri no? e si poi dopo siamo tornati a casa con gli acchi fradici ma come sempre d'altronde provavo a mettere chiave nel buco della serratura non riuscivo e cara tirami giù il buco che la chiave ce l'ho ma quanto è bevuto fa pure lo spiritoso e poi sono andato dentro sono andato direttamente in camera da letto ah beh giusto e ho detto cara abbiamo fatto bene a fare i lavori a casa a fare i lavori a casa? si perché adesso come entri in bagno si accende la luce da sola ah addirittura è tua moglie che ti ha detto? ha detto vasco non è che pure stasera è pissato nel frigo?